Mi stiace bentornati in questa serata che più rappresenta l'atto ludico di per sé, Play in Browser, incredibile, incredibile, la nostra nuova serie dove in sostanza videogiochiamo a tutti i giochi presenti su It, ciò che hanno la sigla, che hanno la dicitura, che hanno il tag Play in Browser e che quindi ci permettono di essere giocati in flash senza scaricarli e senza pagare, in inglese, pagheir. Bentornati, benvenuti amici dell'internet, come state, tutto bene, bentornati, salve, 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 dino domani ho l'orale di maturità, ancora, ma non mi interessa sapere i vostri vizi e i vostri gusti, non mi interessa, mi dispiace comunque, mi dispiace, salve, salve a voi, salve a voi, come state, eh, eh, nessuno che mi dice bene, c'è tutti quanti ciao, 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 di parlare con un muro, voglio avere un feedback, come state, how do you do, how do you stay, ma non si sente l'audio, perché non si sente l'audio, ma non si sente l'audio, ma io non capisco perché, cazzo, il motivo che non funziona mai, tutto bene, oh, mi fa piacere, bestiace, come va il caldo, come va il caldo, qua, cazzo, stiamo affondando pian pian, anzi, oggi, in realtà, paradossalmente, è stata una giornata un po' più fresca, solitamente si affonda nel cemento, vedi questi anziani che lentamente non possono far nulla, tipo il Titanic, per accettare qualcosa che, e bene o male in questo momento, sta tornando a galla come argomento, ecco, questi anziani invece pian piano scendono e si lasciano andare sempre di più tra il cemento di Milano e non c'è nulla che si possa fare, se non magari gettarli un salvagente, si muore di caldo, sì, sì, si muore dal caldo, eh, ragazzi, che cazzo vi devo fare, che cazzo vi devo fare, io cosa dovrei farvi, io non lo so, non lo so, eh, allora, come funziona? Lo sapete, plain browser, it.co, qualcuno di voi non conosce, qualcuno di voi non sa, come si fa a non sapere, come si fa ormai a non sapere che plain browser, che è la rubrica più amata del web, eh, chi non la conosce, orsù, chi non la conosce, allora, plain browser, come, io non so, perfetto, Imperius, te lo spiego, te lo spiego, te lo spiego ancora una volta, eh, it.co, che è una piattaforma, un browser dove ci sono tutti i videogiochi che escono, che sono in una fase alfa, ancora prima di uscire su Steam escono qua, degli sviluppatori indie, eh, non che sono indiani, nel senso che sono indipendenti, eh, cioè, indipendenti non lo so, magari vivono ancora nello scantinato della mamma e del papà, però non nel senso, insomma, quindi, in sostanza, degli indiani fanno dei videogiochi, li mettono su questa piattaforma e noi possiamo giocarli prima ancora che esca su Steam, quindi, eh, 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 l'alfa, l'omega, capite, del processo creativo e dei soldi di questi sviluppatori a delle volte. In generale, comunque, la piattaforma dove si possono trovare, dove si può trovare il sottobosco, in questo caso, dell'horror e noi giocheremo tutto ciò che ha, eh, il, la, la dicitura Play in Browser, da lì il nome, Play in Browser, capite, capite, capite il content, capite la creatività, creatività che non hanno avuto questi, che hanno creato la cosa, credo, l'energy drink più banale che possa esistere, guardate qua, energia power drink, l'ho comprato perché non ci credo, non ci ho creduto quando, quando l'ho visto tra gli scaffali del PAM, ditemi voi se è normale chiamare un energy drink, cioè, sicuramente di impatto, nel senso, cioè, capisci che, però, voglio dire, sembra una batteria, sembra una Duracell, energia power drink, che contiene taurine, che è la stessa sostanza che si può reperire nei coglioni del toro, e sei vitamins, quindi sei vite di mince, non so chi siano questi mince, fatto sta che qua ci sono sei vite di loro. E dietro possiamo vedere, leggere le istruzioni, scusate che levo la condensa e la polvere, energy drink, meat towering, hound set vitamin, cloud state feigl, ma da dove cazzo viene sto posto? Che è sta roba? Niacin, ah c'è la nicotina dentro, evitate ste boiate, evitate, fanno male, fanno male, ma con il link in descrizione potete prendere ben sette galloni di energia power drink per voi, comunque penso sia una di quelle sottomarche slave, non lo so, ma l'avete mai vista sta roba? Ma avete mai visto energia power drink? Collaborazione imminente ovviamente, no? Beh mi dispiace, mi dispiace che il vostro supermercato di fiducia, il vostro market non venda questi materiali ormai nostrani direi del nostro territorio. Vi saluto, va vi saluto, intanto grazie Davide Hecab, grazie Fulvius, scusami, grazie DS Luca, grazie anche a Judith Now, non so, Judith, non ce la faccio, grazie mille anche Daxin, poi chi altro? Scusate, grazie anche a Space Raccoon, grazie anche a in Ardex, poi, poi, poi in Ata, grazie mille, e poi chi altro? Ghichi, grazie, grazie, grazie per le sub, ci stiamo avvicinando alla maratona, attenzione, 2214 su 2300, ci siamo, la mia scinder list è quasi completa, saluto gli altri, Jadux, poi chi altro abbiamo? Pino, Piccione, Domenico Mauro, Linda, Red Riot, eccolo lì sempre Daxi, Lord Akami, ciao mi chiamo Brian, Faded Gamer, Stray, Il Gatto Gay, Greenwich, GG13, Sergente Sergio, Torino, Georgia, Mattiax, Giulietta, Nick, Snappo, Zyx, Lox, Lover, che è successo? È caduto un cane, uno dei cinque che ormai ho, perché uno ha personalità multiple, Venoxm, Stordinal, ma che nomi sono, Pnastr, Giocasso, Giocassa, scusami, Jaco, perdonami, Ottorino, Laringoiatra, perfetto, Idraxen, Case, Strega Azzurra, Daredevil, Il Golfista, Saiyan Gold, Carmen, poi, poi, Bonnie, Lepro, grazie mille, tutto, Valhalla, bestiace, grazie, grazie, sad dream, grazie, grazie, pizzo gamer, e poi ultimo, ma non ultimo, ma forse lo è, Gianluca, Gianluca, P3, grazie, bestiace, è un piacere, un onore avervi ancora qua. Prima di iniziare, sapete che ormai è consuetudine spulciare le notizie, spulzare le notizie e farlo quindi entrare dunque in un'altra rubrica ormai assai famosa, che è quella del tigidino, allucinante scoprire che a breve potrebbe forse cicciar fuori. Una remastered dell'incredibile capolavoro che fu Red Dead Redemption 1, che secondo me, per quanto mi riguarda, è insieme a Elaine Noir è uno dei lavori meno riusciti della Rockstar, sì, l'ho detto, i due inarrivabili, l'uno un po' gnè, per colpa di sto imbecile di protagonista che non ho sopportato dall'inizio fino alla fine, che viene mitragliato da una machine gun, e sono stato felicissimo di vederlo. Quindi in sostanza, ecco, forse fanno un remake, ma mi chiedo perché non facciano un remake invece della versione zombie, com'è che si chiamava? Undead, Undead Nightmare, vabbè, comunque Red Dead Redemption, Undead Nightmare, quello con gli zombie, una figata devastante che mi ha tolto un sacco di ore di vita, quindi vedremo, ma chi lo sa, ma chi lo sa, ma non è finita qua, le novità, perché cosa potrebbe esserci di più lontano di Red Dead Redemption? Un concetto così, pensateci bene, cosa c'è di più lontano da Red Dead Redemption? Pensateci. Ciao papà, ciao Kevin, ciao, bentornato bestiance. Barbie? No, basta sta cazzo di Barbie, pensateci, pensateci bene. Ebbene Pompei, sì, l'ho detto, allucinante, gli archeologistici hanno trovato, hanno scoperto una pizza, cioè, disegnata in un dipinto di duemila anni fa. Questa è una pizza, sembra più una pinza, dire il vero. Quindi si è scoperto finalmente che la pizza non l'hanno fatta gli italiani e ci crolla dunque un impero. Le solite ricerche su Google l'hanno fatta i cinesi. Ormai tutto è fatto dai cinesi, così come la pasta, così come i cinesi stessi, così come gli italiani sono stati fatti dai cinesi. Però qua abbiamo proprio le prove, le prove che i greci ce l'hanciulata insieme all'olio e alla pasta fredda. Allucinante, allucinante scoprire queste cose nel 2023 e ribaltare così le sorti del manufatturiato del nostro paese. Dino, spero che nel tigidino non parlerai di crotone palese. Errore. Poi abbiamo anche altre notizie? No, nessuna notizia di rilevanza. Chi interpreterà Superman Eloise nel nuovo, credo, telefilm di Superman Eloise? Poi abbiamo Donald Duck, Duffy Duck, come si chiama? Paperino in italiano. In italiano non sarà più il mago più forte di Final Fantasy. A me non me ne frega un cazzo. Però possiamo vedere quali sono le più incredibili creazioni fatte su Zelda? Tears of the Kingdom? Sì, possiamo. Guardate qua. Una Mustang? Non so che cazzo di auto sia. Un pick-up? Poi abbiamo questa sorta di problema. Guardate qui la creatività di questo disagiato che cosa ha portato. Poi abbiamo questo robottone che non fa altro che roteare e fare così con le mani. Qui abbiamo una C-130 fatto d'ossa. Ah, il famoso calcio in culo. Un elicottero con Link e un serpente che sputa a fuoco. Questo è ciò che questo gioco permette di creare. Non molto in tono con quello che è lo stile di Zelda. Non so, più vedo ste robe più mi rendo conto. Ma questo? Che cazzo di gioco è? Perché Zelda non sembra più Zelda sta roba. Ma che roba? Guarda. Guarda. Guardate. Guardate la creatività AI di queste persone. Ecco, io queste cose voglio vedere. Quando si ingegnano per creare queste trappole mortali e uccidere i Boblin nelle maniere più sconvolgenti. Guarda. Guarda. Una metitrebbia. Allucinante. Qui c'è un robottone bipede antropomorfo che spara dai suoi capezzoli. Poi abbiamo... No, ma si sta ripetendo il video. A volte vorrei che ci fosse un disclaimer, soprattutto su TikTok. Il video è finito perché delle volte continuo a vederlo in loop e non mi rendo neanche conto. Sono vecchio. Sto invecchiando. Sono sempre stato e sempre sarò insufficiente. Bon, basta. Poi vabbè c'è sempre la solita notizia che c'è un'invasione di pesci che stanno camminando. Stanno iniziando a camminare sulla terra e niente. Questa cosa continuerò a ripeterla finché questi pesci non saranno ospiti al nostro podcast. Sono sul nuovo podcast che si chiamerà Fish and Chips. Bestiacce, ci siamo. Io direi di partire. Itcio è qua. Pronto all'uso. Fermi. Guarda. 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 Aspetta che levo Andrea. Se n'è andato. Aspetta che ingrandisco Andrea. Non serve. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora. Quali sono i giochi che abbiamo già portato? Io non me li ricordo più. Fear Assignment. L'abbiamo portato. Walk Night. L'abbiamo portato. Io non so se c'è roba nuova. Screamers. Non so che cosa sia, ma mi sembra una boiata di quelle giappofinofile. Non fate bene, però attenzione. Non fate bene. Abbiamo anche, cos'è? Gavrille. Io dovrei giocare un gioco dove un tizio ha una lingua nera e lunga. Non mi interessa. Non mi interessa. Ho altri gusti. Poi abbiamo a Dridor. Questo mi è piaciuto un botto, quello del labirinto. Ecco, non iniziate per l'amor del cielo a consigliarmi dei giochi che non sono in plain browser. Qua giocherò a tutto ciò, Cristo Santo, che ha questa tag qua, plain browser. Quindi se tu mi consigli un gioco e so già che lo stai per fare, che non ha la tag plain browser, non ha un cazzo di senso logico. Veniamo a patti con la realtà? L'ho già fatto. Non esiste sta cazzo di tag. Non esiste. Non so per quale motivo. Ho provato a cliccare la tag plain browser. Non esiste. Non chiedemi perché. Quindi non si può. Non si può. Amen. Mi dispiace. Esiste? Guarda, adesso ti faccio vedere che stai sbagliando, che stai sbagliando tutto. Seleziono una tag. Play in... Vedi? Non c'è. Roleplay e single player. Browser. Non c'è. Viene fuori solo questo. Crawl away beta. Non so che cazzo sia. Non so per quale motivo non l'hanno messa. Magari c'è qua. Guarda tutte le tag, però... Ma siamo fuori di testa. Non c'ho voglia. Quindi facciamo prima spulciare, ragazzi. Facciamo prima spulciare. A sinistra? Non è quello il nome? Sinistra dove? Ma no, ma qua ci sono le... Come si chiama? Tag, horror... Ah, posso scrivere qua, forse? Platform, Windows, Free, Input, Genre, Avengers, cosa? Music Type, Multiplayer Features. Non c'è, ragazzi. Non c'è. Ma perché dovete rompere? ma che male c'è? Web? Dov'è? Dov'è? A sinistra web? Dove? Ma dove? Platform web? Ma dove? Ah, qua! E vaffanculo, però! C'è scritto Play in browser, devo premere su web? Ma cerchiamo di fare un pochino le cose... Ma che senso ha? Scusami, Play in browser, poi la tag si chiama web? Ma allora siete deficienti! Ma che senso ha? Ma visto che c'è un cazzo c'è, perché se indico un cane e dico guarda un elefante, ovviamente qualcuno sarà confuso, no? Ma torniamo a noi. Questo l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto, questo non lo faccio perché mi piace la vagina. Feedvid Live, che è sta roba? It's a short puzzle game taking place in unusual live stream app? It's a standalone sequel to feed vid? Non lo so. Beh, però c'è un botto di roba, eh? Attenzione. Allora ragazzi, scegliete voi a sto punto. Sati e Ti l'abbiamo già fatto. Flash, Blood e Concrete. Bene, bene. Voglio qualcosa però che sia astonish dal punto di vista visivo. Le backrooms. Incredibile. Incredibile. C'è il gioco delle backrooms? Five night at Walter White's? No, scusa. Childhood homes? Cos'è sta roba? Magari è disturbante. A short interactive fish on horror story and my first attempt to making something in twine, I'm doing my best. Il tuo best è mediocre. Mi dispiace, mi dispiace, te lo dico già, non importa. Sto cercando, eh ragazzi. Sto cercando, sto cercando. Si sta attivando il mio radar. Vediamo questo feed vid live che riprende un po' quello che è Twitch. Vediamo un po' il trailer. Bene, abbiamo un bagno. Esattamente identico al mio. Hachm, c'è scritto sul cesso. Ah, c'è la chat per chi è subscriber. Hello. Non è un trailer di merda, ma da qualche parte bisogna pure iniziare. Free vid is a short puzzle game taking place in an usual live stream hub. It's a standalone sequel for free vid and the games game. Non mi piace, non mi interessa, non mi piacciono le live, non mi piacciono questi. Provalo. No, 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 voglio di più, voglio di più. Leftovers. Cos'è sta roba? Non parlare con lo sconosciuto. Madonna, santa. Your mom is cooking dinner. Tua madre sta cucinando la cena. Caratteristico direi. Subned by the amount of left lover of no waiting. Giochiamo. Si parte. Ci siamo. Bestiace. Non so che gioco sia. Settings. Camera speed. Va benissimo. Play. Sentite, datemi un feedback dell'audio, per favore. Madonna santa. Ma un po' più veloce sta telecamera. Si è così. Meglio. Bene. Devo aiutarla? Perché sono alto come una scatola di cartone? Mouse to look around. Left click to interact with object. Escape to open the menu. Scappa per aprire il menu. Giusto, giusto. Questa che cazza è? Non si sa. Non si sa. Mamma. I cook too much today. Ho cucinato troppo oggi. Una vera donna. Can you be a dear please and give the leftover away to our neighborhoods? Va bene. Con questo ci guardiamo. Con questo ci incriamo. It's okay dear. They're not gonna bite. Va bene. Adesso andiamo dai vicini. Vediamo un po'. You have no big boy? Ci prenderemo cura della mamma? Non essere come tuo padre. Evidentemente il padre è stato cucinato. Ho messo dieci scatole. Leftovers ce l'ho fatta. In the bag beside you. Pick it up for me. Allora, sono queste? Sono queste? Non... Già abbiamo... Non... Aspetta. Ah, questo. Preso. Sorry for trouble. Ho capito. Sei impegnata a cucinare, donna. Ho capito. Non parlare con gli sconosciuti. Ma... You are not gonna let me down, right? No, assolutamente no, mamma. Assolutamente no. E come faccio ad uscire da qui? Leave home. By the way, don't come back until you are done, ok? Ok, perfetto. Quindi devo consegnare questi dieci... Che cazzo sta succedendo al gioco? Devo consegnare questi meravigliosi dieci pacchettini fatti dalla nostra mamma per dare il benvenuto ai vicini. Ma li devo consegnare le porte di casa? Che è sta musica? Bene, bene. Quello era il mio membro, il mio appendice. Permesso? La... Ah! What do you want? Darti del cibo. Eh... E devo... Come faccio a darti del cibo? E non... Non sono capace di darti. Devo... I need to play? Eh? I need to pay? No, no, non devi pay. Non devi payare un cibo. Ho detto play, anziché... Non devi pagare niente, tranquilla. Va benissimo così. Cosa devo fare? Non... Sto barcollando. Qualcuno mi può restituire le gambe, per favore? Non... 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 Non ho dignità in questo momento. Il mio personaggio non... Che cazzo? Fai con il mouse. Non va il mouse. Non... What an idiot. Oh. Tutto a posto, i vicini? Eh, si è mangiata pure una scorta. Che gioco di merda. Non abbiate paura, ragazzi. Non ci succederà nulla, non ci succederà. Tasto destro, dici? Ah! 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 È un vecchietto? Non lo so. Potrebbe... Sembra un dittatore, più che altro. Ha la testa enorme. Dica. Erja. Eh! 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 Come nessuno vuole i... i... i dolcetti della mamma? Ah! Miusma. Ok? Sì, sì, siamo... Siamo i figli della bellissima pollastrella del piano 9. Ti gusta? Adesso accetterai il nostro dono, vero? Non vogliamo pagare l'affitto, la mamma ha diversi modi per evitarlo. Non so che cazzo cliccare! È allucinante sto gioco. Non si può. Ma cosa rispondo? Cosa cazzo rispondo? Cosa rispondo se non mi dà le opzioni per rispondere? Tieni, ciappa su. Non va, non va. Sì. Sì. Sì! Incredibile comunque, sono dotato di poche parole, ma mi faccio capire sempre, mi faccio capire. È andato in Aegao, è giusto? Bom, adesso lo sa. Beh, se l'hai portata a casa comunque, il nostro obiettivo ha funzionato. Vedete se ce la facciamo. Settimo piano. Comunque, noi siamo sull'attico, dovremmo vantarci di questo qui vicino. Ma in Giappone funziona così. Sound like someone is taking a shower. Torneremo dopo perché qualcuno si sta facendo una doccia. Invece no. Io sto strisciando comunque, è palese che io stia strisciando in questo. Sono dotato di testa e di mano, basta. Il resto non esiste. Non noccare? Non noccare? Non noccare? Turnica indietro? Oh. Che fatica. Permesso? Sta arrivando qualcuno. Chi sarà mai? Orca puttana. Cosa vuoi, ragazzino? Il cibo. Il cibo. Il cibo. Il cibo. Allora, come te lo disegno con la testa il cibo? Questo? Veramente? Sì, sì, sì. I guess this is somewhat tiring work. Sì, sì, assolutamente. You know that? Just leave it at the door. Va bene, te lo lascio qui. Thanks. Prego, non c'è di che, non c'è di che. Lui sembra gentile. Sembra gentile. Gentile. Sembra gentile. E come faccio a salire fuori dalla porta? Ah, qua, qua, qua. Bom. A posto? Lo prende? Lo siapa su? Lo fa o non lo fa? Lo fa? Non lo so. A posto? Vedi? La mamma lo diceva sempre. Fai schifo. Che è successo? Che cazzo è successo? Perché sei tornato così presto? Non ho finito. Non sono riuscito a consegnare tutto quanto. Ho avuto paura. I'm sure the neighbors aren't that much of trouble, right? No, non sono assolutamente stati un problema, per carità. Abbiamo un infomane, una tizia che presumibilmente utilizza sostanze e un uomo che credo mi abbia picchiato. Non mi ricordo. Per favore, vai fuori di nuovo. Vabbè, me ne vado. Non mi vuole in casa. Non posso girarla. Vorrei vederla in faccia. Vorrei capire chi è. Un uomo con dei segreti. Assolutamente. Ma qua, chi è che c'è questo piano? L'abbiamo fatta, sta porta? Non mi ricordo. Ah, una vecchiettina. No, no, no. Madonna, sto effetto tartaruga. Sì, sì, sono il ragazzino della porta accanto. Cosa ti ho portato? Sta a vedere. Press and hold right click to shower the left over. Ma vaffanculo, adesso me lo dice il tutorial. Ecco qua. Lo sto facendo. Ma quindi, prima come cazzo ho fatto? Non lo so. Cos'è questo? I miei preferiti. Prego, non c'è di che. Ringrazio tua mamma da parte mia. Io avvieno a good boy. Sì, sono stato un bravo ragazzo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Mi fa piacere sentirlo. Continuo a prenderti cura dei tuoi genitori. Buonanotte. Arrivederci. Arrivederci. Malinconica bastarda. Procediamo. Ma sembra cinese? Sì, possibile che lo sia. Non so di quale parte del mondo ci stiamo occupando in questo momento. Allora, queste le abbiamo già fatte, quindi sì, non dobbiamo più bussare alle porte. Ottimo. Ma una luce in casa, questi no. No, no, vivono così, vivono così. Ragazzi, sono usanze, cultura, è cultura. Avrà finito di farsi la doccia? No, è ancora lì. Ma smettila. Smettila di rompere i coglioni. Ok. Continuiamo. Vietnamita? Possibile anche, possibile anche. C'è risparmio energetico, giustamente. O gli è saltata la luce. Sono parlati di tutti quanti i condizionatori insieme e è saltata la luce. Nessuno è a casa. Mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. A chi lo dice la mamma poi dei leftover che rimangono, che avanzano? Sta arrivando qualcuno. Attenzione, chi sarà mai? Il diavolo. Sì, signorina. Sono adorabile, grazie, grazie. Si sta strappando le labbra in questo preciso istante. Cosa ti ho portato? Del veleno. E questo. Toh, ciapa. Grazie mille. You must be tired from walking up and down the stairs. Guarda, non ho le gambe, quindi più che camminare rotolo. Possiamo entrare e riposare per un po'. Che dite? Eh? Sì o no? Sì o no? Sì o no? Eh... Ok. Ma ha mangiato. Sarò gentile, te lo prometto. Credo di aver perso, ragazzi. Pronto? Che è successo? Non posso andare da nessuna parte. Mamma? Ci hanno presi? Sono tornato... Eh sì, sono tornato indietro. Che devo fare? Cos'è che ci ha fatto? Ma no, ragazzi. Perché pensate male? Ma perché dovete pensare male? Ci hanno usato fortissimo. Tutto qua. Uno zueg. Un meritatissimo succhino. Ah. Sto cercando di far arrabbiare la mamma? Sì. Enough boy. E Kratos. Abbiamo scoperto la lore di questo gioco. Probabilmente hai fatto qualcosa che non avresti dovuto fare, giusto? Assolutamente sì. Parlare con altri esseri umani. Do un po' come tuo padre. Mi hai rotto un po' i coglioni. Ma non è che sta cucinando il babbo? Ho la sensazione che stia cucinando il nostro padre lo stia andando da mangiare al resto del condominio qui. Sì, bravo. Perfetto. Twist incredibile. Chi l'avrebbe mai detto? Prova a bussare dieci volte a quella da doccia. Che piano era? La mamma mette i lassativi nei biscotti? Possibile. Era il settimo piano? Vediamo un po'? No, qualcuno nella doccia. Ok, uno, due. Gli conto, eh. Tre. Perché dieci poi? Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Adesso la sfonda... Adesso la doccia sfonda la porta. Dieci. Mi avete fatto perdere tempo. Mi avete fatto perdere voglia. Devo farlo per sessanta volte. Ah, ok. Allora, quindi, a quale piano ci hanno molestati? Il sesto? Non mi ricordo più. Scendiamo. Continuiamo a scendere. Quinto. 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 Vediamo un po'? Permesso? I don't want to talk with her. She's just going to bull me like in school. Ah, non vogliamo più parlare con lei. Ci bullizzerà. Non è esattamente quello che ha fatto, eh. Non è esattamente quello che ha fatto. Sono abbastanza sicuro. Nessuno in casa. Non bussare. Basta, basta, basta. Fatti i cazzi tuoi. Ti manca una porta del 6? No, l'ho già fatta, ragazzi. Qua. Uh. Hanno lasciato aperta la porta per noi. Iniziamo da qui. Iniziamo da qui. Iniziamo da qui. Iniziamo da qui. è mio fratello vedi? era mio fratello palese hanno usato il cibo ancora una volta? but mommy they if you come back home one more time I beat you with my stick of wood tradotto in italiano ti picchio con la cucchiara I'm going to teach you a lesson you'll never forget hear me out orca miseria faccio quello che dice va bene va bene non lo so hai effettivamente ragione quanto cazzo deve essere difficile dare del cibo al resto del condominio effettivamente non è così difficile siamo noi che evidentemente stiamo 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 sbagliando siamo incapaci siamo non lo so siamo alti come due ciabatte però credo che siamo abbastanza responsabili per per occuparci del del vito del vito del condominio direi minacciosa no no nai che hai fatta così va compresa ci ha dovuto allevare tutta da sola poi è un anno che ci ha dato a mangiare a nostro padre quindi posso capirla te ne manca una al sesto ancora ma porca puttana allora questa è quella della doccia giusto non posso più bussare ok questa qui quindi nessuna è a casa boom ho vinto visto visto è nell'errore è nell'errore la doccia è al sette ok allora qua qui era aperto adesso è chiuso terzo piano vediamo un po' let's find out solo bellissime sorprese o finirà sto gioco una certa nessuno è a casa non ma porca troia che fastidio sta roba del mouse c'è nessuno? nessuno è a casa e sono i mani manco con il cibo in mano poi dai che mi spella viva quella lì palazzo deserto chissà perché eppure il vicinato sembra così simpatico c'è un cagnolino? merda cosa vuoi? il tuo cane to ciappa qua tieni you cut me in the best timing possible sì I almost decided to just eat this little dog com'è? stava per mangiarsi il cane? never mind thank you prego non c'è di che sink yeah we used to have a bag for food down there but someone schoolgirl keep trying to steal it I guess she succeed ok quindi una ragazzina della scuola gli aveva fregato il cibo could that schoolgirl be chi? be chi? be who? 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 quindi vabbè a quanto pare è confermato in certi paesi dell'Asia mangiano i cani poi quella di prima ma chi? ma who? quella che ti ha ah quella che mi ha beh salve what are you doing here boy? tenga it's fine little one I'm not angry at all ma hai senza un braccio e almeno un coltello how about a chat instead diciamo sì o diciamo no mi voglio fidare di quest'uomo non so perché è senza labbra è senza occhi è senza braccio ma ha un grande cuore no ci voglio parlare thank you it's been long time since I had a chat ok è tanto tempo che non faccio una chiacchierata ma poi just recently mia moglie è recentemente morta so it gets pretty lonely after a while si diventa un po' si diventa un po' soli no? especially this place ok for example I felt like it was only yesterday that I met my wife mi sembra soltanto ieri che l'ho incontrata at the same time I felt like it was only yesterday that I found her lifeless body ma allo stesso tempo mi sembra ieri che l'ho trovata senza corpo cioè senza anima esanime da qualche parte con un coltello inficcato nella gola ma che strano I'm going to chat the cheese letteralmente vado a tagliare il formaggio ragazzo vabbè tagliamo la corta pensi che sia mi sta facendo l'occhiolino è per sbirciarmi meglio pensi che sia sbagliato uccidere una persona innocente nessuno innocente voglio dire I see quindi il figlio del diavolo è finalmente arrivato alla mia porta è tempo di dormire che sta succedendo ho perso nah ma che vuoi che capiti game over ricominciamo la conversazione vabbè ma non volevo essere così a certe persone la verità fa male ah mi ha coltellato devo essere molto morbido sì 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 dai 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 allora ti do il cibo facciamo una chiacchierata sì dai facciamo sta cazza di chiacchierata è passato molto tempo mia moglie è esplosa mi sento solo a un certo punto questo posto si impossessa di te mi ricordo quando era ieri che l'ho trovata morta con un coltello infilato in gola bla 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 pensi che sia sbagliato c'è una persona innocente sì queste sono le cose che impari a scuola la rabbia è normale quando qualcuno fa del male a chi ami penso di sì sì penso che sia normale penso che sia normale pensi che non ci dovrebbe essere punito scelte morali vabbè gli dico sì a tutto così siamo tranquilli then if you find out your loved ones for example your mom is a murderer do you think she should be punished ah se troviamo se scopriamo che nostra mamma è un'assassina non dovremmo non dovremmo punirla in qualche modo non dovrebbe essere punita mi fa da mangiare nel senso vabbè io dico di sì però la legge me lo impone so honest so innocent va bene sono onesto innocente grazie mille seems there's all came in the rest for a bit no non voglio no 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 non voglio entrare no no che succede che succede no no non entrare ma non hai imparato un cazzo non preoccuparti di tua mamma la prenderemo eh abbiamo vinto non so non so non so se è finita bene o è finita male che cazzo è successo ha ucciso la madre ma come col potere dell'amore ma che schifo che schifo di gioco è stato esamination of fear a tollo book 1 vabbè passiamo passiamo ad altro passiamo ad altro passiamo ad altro valutiamo però da 1 a 5 quanto vi è piaciuto questo gioco non fatevi prendere dal mio giudizio mi raccomando dovete essere sinceri con voi stessi quanto vi è piaciuto da 1 a 5 prego 2 3 3 3 da 1 a 5 3 un po' troppo un po' troppo no ma non fatevi non fatevi ecco votate votate direttamente da 1 a 5 su coraggio sono curioso sono curioso poi votiamo il migliore poi votiamo il migliore la scorsa volta è stato non mi ricordo 3 3 32% di voi sta votando 2 avete ragione un po' troppo alto secondo me 2 comunque 2 2 ma si diamogli un 2 all'impegno dai su nel senso 3 3 sti cazzi intanto io cerco l'altro gioco votate 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 38% 39% incredibile incredibile 5 2 2 2 vabbè 2 40% di voi ha votato 2 gli diamo un generico DOS cosa facciamo? Five Nights at Walter White? no no direi di no direi di non di non rovinare un'opera così tanto bella non so che cosa termomorph che cazzo è termomorph la tua banda è morta in fin di scritto stalk the hull of your mining ship armed with a motion sensor and a flame road ah che figata dobbiamo bruciare delle bestie possiamo potremmo farlo potremmo farlo abbiamo un lanciafiamme e dobbiamo vendicare i nostri della banda che sono morti ma qui c'è del sesso vedo c'è nel senso figurativo Twitch per l'amore del cielo Flash Blood ma mi state mi state allora per l'amore del cielo per l'amore del cielo bestiace datemi consigliatemi qualcosa che posso vedere a schermo perché io questi giochi non li sto vedendo Scary Assassin sembra figo dov'è? questo ah l'abbiamo visto l'altra volta sai che non mi ispira per un cazzo questo cos'è? it's your first night on the job what will you uncover? cos'è sta roba? le mosche dentro il barattolo è il 2007 lavori come guardia giurata per questa miseria agenzia FCL si chiama è la tua prima notte sul lavoro al lavoro look through CCTV cameras and shift through emails to find out dobbiamo scoprire cosa succede in questo posto però non lo so non mi ispira non lo so non lo so lancia fiamme dai facciamo quello da lancia fiamme va bene dove cazzo è finito? è sparito? dov'è? eccolo qua mamma mia sembra sembra far cagare the games contain jumpscare o no? oh no oh no you are part of the mining expedition sent to remote planet of Midas-C bene siamo nel pianeta Midas-C upon reaching orbit several of the crew fall mysteriously in non ce la faccio vabbè tre giorni dopo ci siamo noi che dobbiamo recuperarli ce la posso fare bestiace ce la posso fare motion ma i suoni sono già altissimi mi piace eeeh 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 quindi aiuto ma sta andando no 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 ho fatto tutto ciò che era il mio potere per evitarlo ma a quanto pare il gioco la parte divertente di questo gioco è soffrire quindi non proseguirò non proseguirò eeeh spider che bello che è che schi controlla queen spider la regina degli spider-man dobbiamo dare da mangiare le nostre larve beh beh aspetta anomalous research department deb che bello è questo kriohazard ma che bello il disegno che figo cos'è che è vediamo madonna santa ah vabbè sì è tipo un'avventura grafica stile pokemon carino però direi anche di no voglio di più cazzo voglio di più demon burst no sonic.exe knuckle deluxe 2 scary subito giochiamo al gioco di sonic dai power by construct 3 va bene shocking imaginary attenzione siete stati avvisati eh io ve lo dico eh per l'amore del cielo ti cacherai na na già lo conosco ma come ah ho capito qual è sì mi è venuto in mente sì ho capito qual è questo qui ho capito questo è figo c'è una creepypasta su sto giochino qua è tipo uno dei giochi più disturbanti ma no 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 creepy sonic sì sì wow non so giocare a sonic con la tastiera però è un po' impossibile con la tastiera però è un po' è un po' difficile farcela con la tastiera oh no ha detto nonna io nonno che cosa cosa è successo scusatemi cosa cazzo è successo cosa per cosa per diana è successo che cazzo è successo vabbè rimbalzo che cazzo fa quando è che arriva Jim Carrey your mama beh wow e mo explode don't don't quindi pronto e questo sarebbe il gioco più inquietante di internet izcio puoi fare di più izcio puoi fare di più attacca gli è tacciato una bomba ma cosa sta succedendo ma cos'è sta boiata perché mi piace ma cos'è successo Sonic è esploso comunque era così facile ucciderlo ma allora e quindi come andrà a finire abbiamo preso un finale di quanti 26 ne faccio ne faccio un altro giusto per diceva di non esplodere aaaah non dovevo farlo esplodere quello intendeva e io che cazzo ne sapevo e io che cazzo ne sapevo che ingaggiando un combattimento l'avrei fatto esplodere con una granata a mano una bomba a mano scusatemi il suono è fastidioso aspetta questa scena è bellissima ma cos'è ma cos'è vi giuro ma cos'è ma spiegatemelo vi prego spiegatemi i meme what means what means these memes I don't understand allora non lo devo far esplodere don't explode explode don't va bene ce la posso fare quindi non 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 ingaggio il combattimento giusto entro oggi però what means this means esatto spare you decide to spare si porca puttana ho visto ho visto un leggero flash ah siamo a sonic ma siamo dall'altra parte fotogioco guarda non si può non si può non ho mai visto sonic così lento in vita mia tutti i nove sprite che lo compongono porca di quella miseria murderer spare e dovrei risparmiarla no 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 ma basta però che cazzo e niente abbiamo perso di nuovo ragazzi e niente ragazzi game engine your mama no peccato avevano perso un'occasione vabbè e questo è sonic the edge dogs knuckles deluxe 2 questo è uno dei giochi più disturbanti dell'internet sono grato di averlo condiviso con voi start county treatment ah questo qua era quello dell'altra volta questo mi è piaciuto un casino the knight abridge you're supposed to be a sacrifice in order to bring an eldritch god to your realm and sacrifice what you e la madonna no un po' troppo un po' meno che è sta roba lui sembra figo questo questo è però un po' un po' poco horror questo è proprio action ma scusami ma la categoria horror me l'ha messa ah soltanto soltanto platform ah no horror sì e dove cazzo è l'horror in quel giochino vabbè 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 che ormai la categoria horror ragazzi la mettono dappertutto francamente cohabitation bene mark's room help mark per scoprire ah possiamo dobbiamo aiutare mark a scappare da questa stanza national test for identification of dangerous phenomenon subito questi mi piacciono via 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 a manetta a manetta vi voglio celeri dobbiamo riconoscere i fenomeni non so che cavolo sia ah credo che sia una di quelle nuvole circolari ogni tanto capita che il la fisica vada a puttane il clima vada a puttane quindi facciamo safe non penso sia pericoloso è eccezionale ma non è pericoloso name morning glory status unsafe brief information ah non è sicura sta roba diametri di due chilometri possono raggiungere queste nuvole la madonna ma è credibile all'altezza di 200 metri e che cazzo me ne frega se sono a 200 metri d'altezza a me non mi tange questo fenomeno direi il cielo a pecora direi che è safe è safe safe no safe giusto cumulus clouds are low level clouds ma parliamo di nuvole e basta in questo test quali altri fenomeni devi farmi vedere è un fottuto tornado non è sicuro no direi è l'occhio di dio water tornado ah è un tornado d'acqua beh wow a water tornado is a funnel shape vortex of air and water formed above the surface of the large reservation non è incredibile vabbè non ci vede tornado d'acqua è abbastanza esplicativo di per sé ecco qua inizio già a non percepire dite che è safe sta roba non so cosa sia sai perché perché non si vede cos'è facciamo unsafe creeping darkness unsafe it's everything around you has turned completely black then take the embryo pose and lie down on the ground on the ground ah quindi praticamente tutto attorno è diventato nero e ci ha messo in posizione fetale per terra a piangere ho rotto il pc come lo percepite sicuro o non sicuro questo strano individuo il vecio si si dio madonna le orecchie attenzione alive è alive come alive è morto ah no cazzo devo fare safe and safe siamo passati da da morto e che cazzo ne so se è morto o no questo ha lavorato in uno store 24 his body was found only after the creeping dark ah è stato trovato dopo il fenomeno dell'oscurità near to la settima casa del mandela street è vivo o morto è vivo oh per un po' lo zaccherò guarda è morto ma porca puttana è un po' tipo l'uccellino è vivo o è morto è sempre sempre l'opposto di quello che dice he left the house but it was found the city after the fall of creeping dust ah anche lui è morto nell'oscurità buono non mi interessa il come l'importante anzi non mi interessa sapere il contesto mi interessa sapere solo come è morto lei ha gli occhiali da sole quindi teoricamente non era notte quando è morta giusto cervello incredibile cervello perciò evviva evviva attenzione è morta come è morta creepy darkness ma porca puttana creepy darkness perché aveva gli occhiali da sole di notte è inciampata in un tombino allora lui è morto è morto angelo martini è morto ok anche lui è vittima della creepy darkness facendo una passeggiata durante la passeggiata così avvicinato di mattina ok incredibile lui è morto john doe è l'unico sopravvissuto del fenomeno creepy darkness wow sono morto morti tutti tranne lui che è sopravvissuto sono tutti quanti andati a dormire tranne lui che appunto è sopravvissuto abbiamo fatto un punteggio di tre su quanto 26 è andata bene allora le autorità sono sono consapevoli del nostro risultato basta ma stasera è una serata deludente una serata deludente dov'è l'horror dov'è il creepy non voglio solo il jumpscare io voglio di più io voglio l'inquietudine beat the roof che cazzo è sta roba clay escape sì subito una una un gioco horror sull'escape room con un pupazzo fatto di com'è che si chiama in italiano di clay come cazzo si dice dai dai traduzione voi che sapete voi che avete il cervello malleabile laica clay non pongo sì più o meno argilla bravi bravi guarda che bello ma poverino devo uscire da qui ok dobbiamo farlo uscire da qui 45 120 0 no no ti prego ok qui abbiamo degli animali cavallo lo posso prendere non posso il sole il sole il sole ride belli qui abbiamo una tastiera qui abbiamo questo che cazzo è ma che diavolo è non sono adatto agli enigmi allora faccio come in ogni escape room dove sono andato tocchiccio tutto a una certa qualcosa si aprirà qui abbiamo perfetto un codice numerico da capire qui è chiuso ci servirà ovviamente una chiave it's locked I can use them ok devo utilizzare devo trovare una chiave anche per questo qua mi serve una manovella una manovella qui abbiamo dei numeri si ah cos'è sta roba qui abbiamo le formine il quadrato va nel cerchio la stellina va nel cerchio il triangolo va nel cerchio io facevo così da piccolo mi hanno dato poi un maestro di sostegno doveva sostenermi doveva sostenermi l'ho sostenuto io alla fine allora qui abbiamo effettivamente un orologio e qua ci viene spiegato la porta è chiusa ovviamente il nostro piccolo uomo di argilla è qua qua ci viene spiegato che 45 120 0 ok ok allora quindi sono le che cazzo è perfetto sono le 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 5 10 quindi è già un delirio fate voi la matematica ragazzi la lascio a voi 100 ma cosa si intende quindi 45 120 0 cioè devo togliere le lancette è un po' un casino dietro la pianta sotto il vaso andiamo a vedere e non potuto ah ah bravissimi ah ok aspetta mi dice di girare il quadro che occhi bravi dov'è il quadro questo i can't è questo il quadro sembrerebbe di si o è questo il quadro no questa qua è la finestra dov'è il quadro ah questo quadro ah caputana che è sta roba ok questa tele scusate ci permette di vedere all'interno della sedia che contiene dentro molle e sti cazzi mi serve qualcosa per aprirla non abbiamo item come facciamo ma è carinissimo dovrebbe essere horror fai tu e non rutina dopo cena si si oh dio ormai la cena è andata aprila con i denti sono fatte di argilla pure loro devi vedere ciò che metti sulla sedia why quindi non devo aprire la sedia all'interno trovo delle molle che mi servono no devo mettere qualcosa ah ok quindi devo utilizzare questo per poter vedere attraverso un oggetto che mettiamo là sopra cosa mettiamo là sopra e si porca di quella puttana sarà dentro uno di queste scatole uno di questi di questi armadietti e però di oggetti ragazzi non ne abbiamo questo è un po' un casino è un po' dobbiamo capire che numero mettere qua allora dobbiamo capire se il codice che c'è qui perché questo teoricamente è un codice qua abbiamo l'orologio 120 non è che è questo girato storto più o meno non lo so non lo so mettiamo 120 le lancette sembrano messe in quel modo lì 100 no 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 20 non va non va allora ragazzi c'è soltanto un sistema aspettate adesso ve lo spiego funziona così ragazzi è molto semplice si tratta di combinazioni numeriche giusto quindi iniziamo 001 002 003 004 005 006 007 ci metteremo un pochino ma si può fare tranquilli a few hours later rimane sempre qua è colpa vostra ragazzi è colpa vostra avete iniziato tutto questo io non c'ho un foglio dietro il vaso con la pianta allora capisco google però adesso basta e l'abbiamo già visto il foglio dietro la pianta so che già sapete la soluzione ma proviamo a ragionare insieme piuttosto che andare a vedere quale cazzo è la soluzione su internet 165 165 ho pensato di girare lancette ho pensato di girare lancette ma non mi fa fare nulla ah e ovviamente 666 numero sul pavimento vicino al mobile c'è un numero sul pavimento ma il pavimento è fatto con gli stuzzichini dei ghiaccioli che figata c'è un numero sul pavimento scusate ma questo ahhh chi cazzo l'aveva vista bene allora aspetta sì ho capito qua no no mi serve mi serve della mi serve dell'argilla devo creare una stella da mettere lì but how che cazzo ahhh ok aspetta devo ricreare questo 3 sopra 1 sotto 2 destra ok no 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 aspetta aspetta toglierli toglierli 1 sotto tac 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 giusto più o meno sì e 2 di qua no 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 aspetta aspetta ok e poi tac 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 3 1 2 va bene eeeh giusto più o meno no fino in fondo ok ah è il numero 2 5 0 è il numero aha è il numero abbiamo anche abbiamo anche il triangolo 2 5 0 ottimo sta succedendo ragazzi sta succedendo 2 5 0 yes quadrato rombo quel cazzo che è e un apparecchio acustico del nonno questo serve da mettere qui suppongo ho avuto paura comunque abbiamo una chiave abbiamo una chiave chiave verde per questo immagino e no e no però e no allora aspetta però perché qua riconosco delle figure abbiamo il fantasmino che è lo stesso che ci ha fatto bubu sette nella scatola di jack nella jack's box però attenzione abbiamo le formine andiamo a metterle qui allora tu vai qua tu vai qua e questo non va qua però ci servirà per qualcos'altro mi sa questo possiamo fare qualcosa no per di no questo un cazzo il quadro sulla porta perché ah qua c'era il cavallo aspetta 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 e dov'è il cavallo il cavallo no il cavallo è di qua ok il cavallo è questo allora fermi fatemi un attimo capire come cazzo funziona sta roba cavallo ah il colore del cavallo devo mettere che cazzo di colore era il cavallo non ditemi rosa per favore perché il rosa non esiste marrone davvero o arancione intanto qua c'è questo affare che non l'avevo visto grazie mille perfetto si è marrone la farfalla di che colore è ma io che cazzo ne so sicuramente questo è bianco quindi lasciamolo bianco il fantasmino la farfalla io non l'ho vista però attenzione perché abbiamo trovato un altro pezzo un altro pezzo del puzzle qua e qua perfetto ci siamo quasi ragazzi ci stiamo avvicinando alla soluzione e la farfalla dov'è la farfalla sarà qui aspetta farfalla 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 la farfalla ha il colore del non lo sapremo mai quali erano gli altri animali la farfalla è verde ok la farfalla è verde la farfalla è verde ok e il cuoricino invece è rosso sangue rosso sangue è l'ora dei teletubbies è l'ora dei teletubbies dov'è il cuoricino non c'è non v'è senti un colore vale l'altro nel senso prima o poi si aprirà toh completamente a caso va a vincere poi utilizziamo questo da mettere qua it's empty there is no point allora abbiamo attivato il frullatore se nel frullatore ci metto questo questo figlio del peccato no quanto pare no cosa posso mettere nel frullatore ci metto questo aiutatemi mettici il cavallo non lo posso prendere ragazzi comunque la carne di cavallo è eccezionale ma se ci metto l'omino di di argilla twist il sole prendi il cavallo e mettilo nella 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 griglia mettilo nella griglia eh la poltrona Dino cosa la poltrona la poltrona me ne ero completamente dimenticata e non posso fare un cazzo nella poltrona biglietto dietro la pianta già preso ragazzi ci diceva ci diceva di spostare il quadro infatti l'abbiamo già fatto prendi la stellina e non ce l'ho sta cazzo di stellina dov'è la stellina non è che sulla pianta c'è qualcosa hai detto una foglia magari non vedo un cano qui l'abbiamo fatto dobbiamo risolvere credo il problema dobbiamo risolvere la cosa dell'orologio ragazzi perché questa roba qua dove cazzo dobbiamo metterla 45 120 0 ma che vuol dire e abbiamo qua l'orologio ma non posso far nulla con l'orologio non posso mettere da nessuna parte ah aspetta madonna santa quella porta lì mi inquieta prova a mettere la stella sulla poltrona questa stella ok si vediamo avete ragione effettivamente è l'unico item che abbiamo no non lo posso fare ragazzi non me lo fa fare però volendo possiamo e lascialo giù you find yourself lock in a strange rail solve puzzle and collect items to escape mi dice mi dice il tutorial mi dice come muovermi nel gioco sono i gradi delle lancette Dino ma davvero ah si è vero ok 45 gradi 120 e 0 indica i gradi di inclinazione si ma di cosa del sole cosa che devo inclinare perché non posso interagire con l'orologio devi fare la sella con la formina la stella con la formina eh si ok ma come aspetta col cavallo no non va non funzica devo trovare qualcosa di argilloso devo creare l'argilla non posso le frecce dell'orologio e non le posso muovere ragazzi non me le fa muovere ci clicco sopra non mi fa fare un cazzo è giallo l'omino si si è l'omino giallo il cassetto 90 gradi ok quindi e dove cazzo ho capito allora abbiamo un 90 va bene ma dove lo metto la paura 90 la paura no ma non solo non si capisce un cazzo se spammate il problema non è tanto che non si capisce un cazzo se spammate e che non si capisce un cazzo nel gioco la scatolina ah ma vaffanculo io pensavo di dover schiacciare qua i tasti ma porca puttana allora quindi abbiamo 90 gradi giusto no ho sbagliato ah abbiamo la chiave ma è la chiave questa ma non ha senso no state pensando quello che penso io no 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 sei tutto ciò che ho va tutto bene va tutto bene va tutto bene vediamo prima che cosa ha al suo interno il cuore è blu ma poverino e perché dovrei spappolarlo di grazia ci provo vabbè ragazzi ormai voglio dire ah così faccio la stellina ok l'importante è uscire da qua sani e salvi ok perfetto ci manca solo il cerchio dov'è ci manca solo il cerchio lasciate perdere era di passaggio ragazzi come l'ho come l'ho disfatto lo rifaccio come ti faccio ti disfo dicevano la gabbia nella gabbia cos'altro c'è ah era seduto sul cerchio non l'ho neanche visto grazie ok a posto e mo mia abbiamo vinto dunque giusto guarda no il gioco il gioco non finisce qui 3891 workshop 0687 0687 2671 che cazzo vuol dire sta roba 7860 ok computer è staccato immagino perché la spina non è inserita serve un asciuco merda lo sapevo che cazzo è cos'è perché il cavallo e la regina cosa sto guardando ok punti cardinale dobbiamo cercare un attimo di capire il primo indizio ma è un delirio sto gioco però mi sta piacendo non è horror ormai no 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 che cazzo succede oh ehi ahhh che sta succedendo cos'è ok il cavallo grazie e che ci devo fare io cavallo non lo so io non lo so io non lo so cos'è ho sbagliato eh che è turn around oh madonna santa credo io abbia tolto tempo per stare in questi posti velo che cazzo è cos'è quell'immagine dove devo andare siamo salvi siamo salvi tranquilli allora il cavallo abbiamo qua il cavallo ma non so non credo sia quello il cavallo mi scacchi si e non so che cazzo fare ora esplode no tranquilli copyright assolutamente allora il workshop ci porta in questa specie di sogno bagnato ah guarda usa la tastiera si usa la tastiera e cazzo e cosa devo farci con la tastiera no siamo scemi bugiardo liar e bugiardo ok devo schiacciare devo scrivere bugiardo lì va bene bake allora ricordiamoci liar bacche e basta penso siano queste le parole chiave no niente cazzo fai come si cancella liar giusto no bacche no se lo cancelli però non è quello giusto ah forse devo dare invio no fire ah giusto c'era anche fire non va i numeri è che ci metto allora allora attenzione aspetta facciamo una roba se io vado a spegnere la luce ah ok perché le scritte corrispondono ai numeri ok 3891 e vabbè ma non so quale sia quello giusto 0687 però è anche vero che se guardiamo qua è il contrario no è sempre lo stesso 0687 proviamo 06 ma posso mettere i numeri o devo per forza scrivere nella tastiera eh no vedi i numeri non li posso mettere 1240 i numeri corrispondono alle lettere non c'ho voglia non c'ho voglia quindi questi numeri corrispondono alle lettere e no è già scusami fire dove cazzo era perdonami fammi spegnere la luce un attimo 26 ma non ha senso scusami 2671 ci sono più numeri che no 4 numeri 4 lettere effettivamente ma la f non corrisponde al 2 come funzica deve andare in ordine forse quindi partiamo con il 0687 proviamo ad andare in ordine quindi 0687 2671 quindi liar bake no questo era fire oddio non mi ricordo più cosa che era liar fire e poi e poi e poi non vedo e poi bake bacche giusto e poi bake va bene ah ma posso andare qua posso andarci solo burn la madonna burn allora proviamo allora no dobbiamo trovare la parola giusta e basta burn cioè ma mi posso muovere in questa stanza se ho la luce spenta ma con la luce accesa no proviamo burn devo scrivere soltanto se ho la luce accesa sta diventando un po' meccanico burn no burn che cazzo ho scritto ma burn non bue non va bake ancora ma l'ho già messo l'ho già messo non va fire ancora ma non è che li devi mettere in ordine fire bake burn liar però non so se allora possibile che li debba mettere in ordine effettivamente ha senso che ci siano i numeri e che quindi io debba mettere in ordine numerico va bene però c'è un altro problema io non so i numeri di questo ah bastava andare qua perfetto 3574 quindi 3574 quindi 3574 perciò questo cos'è che era che non mi ricordo più l'armadietto era figa io ho un memoria di merda cosa c'era scritto qua burn 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 ok quindi burn perciò l'ordine ragazzi qual è fate voi dai così siete più che siete più svegli datemi l'ordine su c'è un quadro controlla dopo pedro de che energy drink esatto fire liar allora fire liar eh ma non non va liar tra l'altro non era liar liar ma come la scrive non lo so liar fire burn beh aspetta allora liar fire e non va fire burn ho sbagliato a scrivere merda come ogni numero corrisponde una lettera tipo 7 corrisponde alla r siamo fuori di testa ma poi tra l'altro no perché non ha senso perché se qui c'è scritto 2671 la f non è il numero 2 quindi non penso sia quello ti prego ditemi di no sono parole nuove prova a vedere il foglio sotto al coso con il coso degli scacchi minchia come vi esprimete e riuscite a farmi capire tutto c'è un foglio sotto al coso con il coso degli scacchi che cazzo è il foglio sotto al coso con il coso degli scacchi non ho ah qua se 9604 bene però non è la teoria aspetta prova a vedere prova a vedere una roba aspetta se spengo la luce aspetta non c'è più il foglio merda non c'è più il foglio con la luce spenta questo è un problema ragazzi devo capire a quale numero corrisponde il 9 0 uguale l sì 0 uguale l ok 0 uguale l qual era il numero? figa non me lo ricorderò mai allora ragazzi 9604 segniamocelo da qualche fermi segniamocelo mi sta prendendo questo gioco segniamocelo da qualche parte per l'amor del cielo controlla il quadro basta scrivi fear ma come? prova ad aprire il forno non c'entra un cazzo stiamo risolvendo un'altra cosa è difficile è difficile è difficile somma i numeri che compongono le vere serie ma no non credo ma penso semplicemente ma quanta segamentale vi state facendo ragazzi? ma no ma un po' meno un po' meno somma i numeri il risultato corrisponde alla lettera? ma no ma la madonna di D ma no ragazzi semplicemente ci sono dei numeri qua in giro tipo vedi 3891 il 9 ad esempio che cazzo corrisponde? andiamo a vederlo semplicemente facendo così spegniamo la luce andiamo a vedere il 9 sarebbe la k la k kill credo eh ha senso il mio ragionamento? 9 uguale k perfetto quindi k il 6 che cazzo è? il 6 dov'è? il 6 è qua il 6 è la i credo il 6 è la i kill e si sarà kill ki k i k i a i d ricordo il maestro 0 0 era? kill eh si sarà kill 0 4 4 è? che cazzo è 4? vediamo se c'è un 4 da qualche parte c'è un 4 da qualche parte non c'è nessun 4 merda non c'è nessun 4 ragazzi come facciamo? ci manca un numero? qua c'è 4 4 si 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 allora aspetta che devo spegnere la luce probabilmente sbatterò il mignolino contro lo spigolo come al solito 4 n chi? n? kiln? che cazzo vuol dire kiln? kiln? scrivo kiln ma come kiln? ma che cazzo vuol dire kiln? oh io scrivo kiln ma che cazzo vuol dire kiln? vabbè abbiamo trovato l'asciucco quindi qua 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 ok pc sens www.sens.news va bene sensens sensen sensen e ma? riavvio hard reset e di questa informazione io che dovrei farci? potrebbero essere i punti cardinali però eh sud est nord sud est sud 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 fuck non va non va sud est nord sud est sud non va ah prima merda allora quindi è vvv sud est vvv quindi è ovest 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 sud est nord sud est sud nord est ovest sud è impossibile è impossibile ragazzi ragazzi fatemi una roba ecco bravi scrivetemelo in chat così facciamo prima scrivetemelo in chat quindi vvv v poi sud est e vabbè ma non lo state più scrivendo in chat cos'è che è sens sens non si fermi come cazzo faccio se continuate a scrivere fermi allora vvv s e n s e s n e v mi avete mentito anche il puntino devo mettere figa poi allora riscrivete mancava la s mancava la s metti i punti devi usare ok fermi allora quindi vvv punto ok sen ses sen ses punto news oh ce l'abbiamo fatta abbiamo il cavallo 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 che cazzo ci faccio mo' col cavallo io il forno può succedere qualcosa no se clicco sul forno non succede un cazzo non lo posso accendere non mi ci posso ficcare dentro la testa è un po' un casino mangialo però possiamo sempre tornare al workshop ho paura di farlo non ci voglio andare di là il foglio vicino al forno l'abbiamo già già tocchicciato ma la game room che cazzo dobbiamo одно l'abbiamo ma sei cretina o o o o muovi tu non dovresti muovere tu no ma poi che cazzo di scacchiera è scusami è un po' strana sta scacchiera arrivederci quindi c'è la game room e il workshop madonna santa devi inserire le mosse queste? meglio che cazzo eeeh il cavallo va a L si ma 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 allora aspetta scusi eh dovrei fare così no e dovrei fare così così e così quindi L di sopra verso sinistra L di sopra verso destra L in verticale verso destra ok e se la fa L di sopra no ma era dall'altro lato stiamo sbagliando tutto non posso girare ah eccola lì ok poi L di sopra tac fammi pensare poi poi è tac esatto e poi è tac yes ok abbiamo una chiave arancione ed è ah cos'è ma che è perché no che devo fare ma siamo cretini eeeh va bene otto ricordiamoci le gambe messe in questo modo otto le gambe del cavallo va tutto bene caro allora dobbiamo tornare di qua non mi ricorderò mai come cazzo sono messe ste gambe del cavallo ah salve non va come cazzo è è giusto vallo a rivedere che due coglioni minchia io lo so che ci prendi stiamo per prenderci uno sbocco ma qua poi c'è c'è un disegno di qualcosa che cazzo è un tasterino numerico con un tasto verde in basso allora calmi ci faccio una foto ottima idea ho la memoria ragazzi di un cactus appassito fermi fermi sopportate sopportate boh l'ho buttata su telegram ok 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 tra l'altro voi sab sapete che avete telegram vedo potete accedere alla chat di telegram cop tv sub chat ok non soltanto non vi lo dico non si sa mai e workshop ok 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 allora ah e l'altra gamba dietro che fa così no di là di qua così e l'altra fa così ok e poi questa davanti fa così e l'altra no l'altra dietro così perfetto ok abbiamo vinto abbiamo una chiave dorata io non so che cazzo faccia adesso questa chiave dorata voi state fermi eh voi state buoni e fermi eh madonna 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 che ansia chiave dorata apre questo si mannaggia il cazzo e che che devo you made it ah abbiamo finito oh l'abbiamo finito in tempo ragazzi incredibile pensavo durasse un pelo di più happy halloween bellissimo questo mi è piaciuto bravo bravo mi iscrivo mi iscrivo follow color bomb bravo bravo ti follow color bomb complimenti mi è piaciuto particolarmente allora concludiamo con con che cazzo si chiama sto gioco com'è che si chiama free the the escape argilium guy clay clay scape concludiamo con clay scape ottimo 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 vi è piaciuto allora da 1 a 5 quanto vi è piaciuto questo ci ha fatto usare un po' il cervello anche o no o no 5 bravi 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 dipende se vi piacciono i giochi escape room a me non fanno impazzire francamente però perché non sono una persona logica sono più una persona pratica non ragiono quando faccio le cose di conseguenza c'è un vago odore di merda in questa casa credo che il cane abbia cagato 5 bravi così si fa il 59% di voi ma se vi piacciono questi giochini un pochino più cervellotici con quella componente un po' da enigmista della domenica possiamo portarli magari c'è qualcosa del genere questo è un puzzle quindi possiamo cercare horror puzzle oddio come clay come clay scape non troveremo nient'altro però mi sa che il gioco migliore di questa serata è stato clay scape anche se non abbiamo giocato tanto i hurt myself ottimo ottimo vorrei fare anche i pixel art perché i pixel art li trovo disturbanti quindi probabilmente dopo dopo spulcerò it co e cercherò io 5 giochi carini da portare o 3 giochi perché alla fine ragazzi non è che abbiamo molto tempo bene o male un gioco dura 10 minuti 20 minuti in un'ora e mezza due ore insomma fate voi pixel art si eh si 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 eh si 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 quindi boom clay scape si becca un 5 fighissimo complimenti complimenti si conclude qui la serata dedicata a plane browser la serie dove videogiochiamo i giochi in flash con la tag plane browser su eh il browser it co salute eh se volete mi stia la prossima settimana lo riportiamo ormai sapete come funziona per chi sta andando è stato un piacere invece per chi rimane ci facciamo i soliti 10 minuti di chiacchiere a voi di tiktok vi ricordo di venire qua su twitch se volete continuare a vederla live perché adesso la chiudo di là su tiktok mentre a voi di twitch vi consiglio di 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 guarda guarda vi scambiatevi un segno di pace se siete da soli date un pugno allo specchio questo è buonanotte buonanotte chi sta andando bestiace non stiamo chiudendo non stiamo chiudendo comunque io ve lo dico quando porti Amanda the Adventure probabilmente settimana prossima ma abbiamo trovato un giochino horror interessante voglio farvi vedere il trailer di quello che porteremo settimana prossima col maestro perché c'è un altro gioco che è un gioco horror cooperativo niente niente male aspettate 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 o le devo chiudere la live di tiktok perché non si sa mai che ci bannano soltanto perché non lo so faccio un movimento brusco starnutisco di troppo mi mangio una pellicina delle mani sapete come funziona tiktok non si sa mai allora mentre stavamo spulciando l'internet io e il maestro abbiamo trovato questo gioco che in realtà già avevamo visto insieme in una di quelle serate in cui cazzeggiavamo intanto metto un po' di musica no lo faccio la prossima volta dai dopo abbiamo trovato questo gioco veramente veramente sexy è questo qua si chiama hidden deep allora aspetta che lo cerco su steam hidden deep hidden deep hidden deep eccolo qua costa un ventello è questo ragazzi guardate siamo stati mandati nelle profondità dell'oceano tra l'altro ritorna tutto quanto non so se mi spiego è è è un un fenomeno caldo quello delle profondità dobbiamo ricercare i nostri la nostra Kiryu che è andata dispersa sono diverse cose che dobbiamo fare abbiamo un equipaggiamento che si permette di capire dove andare che cosa fare è proprio tipo un'avventura vedete un'avventura survival ma delle bestie ci attendono vedete addirittura quattro giocatori volendo cooperativa locale o la cooperativa online face the danger altrimenti è bruci vivo ardi vivo sul fondo dell'oceano betrayal attenzione si possono tradire gli altri l'esplorazione la claustrofobia classica gli alieni non ti fidare di nessuno adesso muta in un'altra forma ecco porca di quella miseria batonna ma è bellissimo e quindi hidden deep lo porteremo settimana prossima perché secondo me vale la pena poi dico tanta meraviglia del trailer sicuramente vedremo 5 frame di tutto ciò che abbiamo visto soltanto 5 frame però non è male infatti noto già nelle valutazioni è nella media il titolo però vediamo un attimino il perché qualcuno avrà recensito negativamente questa meraviglia sì bello ma avrebbe più senso se il multiplayer online non in coop locale meno mille punti a griffondoro allora già che hai citato hai citato il compianto Hogwarts Legacy in generale l'opera prima l'opera massima dei fottuti maghetti ecco non dico che ti deve finire il piede dentro una tenaglia per orsi però magari inciampare su un gradino ecco però vabbè lasciamo perdere lasciamo perdere ognuno ecco c'ha il suo stile carino a me non dispiace per niente ovviamente immagino si possa giocare in cooperativa locale sì ma grazie allo sharing possiamo giocare in cooperativa online lo stesso Andrea quindi poi comunque ce la studiamo ce la studiamo se no gioco in single player e vaffanculo Andrea c'è capito nel senso senza nulla togliere il maestro questo gioco lo voglio giocare ora non sostituirà l'horror night però attenzione faremo l'horror night questo è un altro gioco a parte quindi c'è un'altra serata horror cooperativa lo dico e poi ci sarà sempre Brad and Fred Fred and Brad o non mi ricordo mai se viene prima Brad o poi Fred non lo so quindi quello dei pinguini insomma settimana prossima ragazzi abbiamo un bel po' di robine interessanti di robine interessanti sì sì con Andrea vai cerchiamo di farlo con Andrea Garden of Ban Ban non è uscito ragazzi Garden of Ban Ban 4 è nella mia lista desideri ma non è uscito c'è scritto data di rilasso 2023 quando esce lo portiamo tranquilli saremo i primi anche perché pensate un po' lo sviluppatore di Garden of Ban Ban pensate un po' non ci ha mai contattato però sappiate che quando uscirà il gioco saremo i primi a portarlo ve lo prometto ve lo prometto ora però un po' di mosseca deliziamoci con che cazzo è sto gioco oh my god che gioco è non me ne frega deliziamoci con un po' di jazz yes amnesia di bunker non credo lo porterò ragazzuoli non mi ispira per un cazzo mi sembra un'enorme delusione francamente mi sembra veramente un'enorme delusione grazie game stop grazie mille grazie mille salve a voi 27 salve i miei cereali stanno piangendo eh? eh? vabbè non devo leggere non devo leggere i vostri commenti devo uscire squirrel with a gun sembra figo oh ah ma mi avete chiesto delle reaction ebbè allora ma che stiamo aspettando e quali reaction di grazia? horror within tabs devo vedere se sono cose che abbiamo già reactato però adesso adesso le facciamo di fila una dietro l'altra sono tre è giusto le reaction potete i moderatori darmi conferma Undertale sì non abbiamo importato in live ma abbiamo provato a giocarlo che è sto suono? sono sulla chatta dei moderatori di CopTV voi non vorreste mai entrarci perché è il male è il male puro la chiudo ho francamente terrore cosa yes Andrea tu fai domande della quale mi sono proprio dimenticato cioè io ho dimenticato di aver posto la domanda quindi no sono sono quattro le reaction allora partiamo con tabs che non so che cazzo sia forse l'ho già sentito nintendo switch aaa ho capito ma è vecchio sta roba aspetta questo il blu contro il rosso attenzione la grande rivalità che cazzo succede che cazzo succede ma si ma si ma me lo ricordo non è questo il gameplay comunque questo è soltanto la cinematics sti cazzi vogliamo vedere il gameplay fatemi vedere il gameplay datemi il gameplay è la cinematics odio odio i trailer del genere non hanno un senso logico io voglio vedere il gioco che sto acquistando non voglio vedere la fantasia dello sviluppatore eccolo qua eccolo qua il trailer sono dei giochini divertenti questi li ho giocati un po' di questo sviluppatore qui è inquietante è uno strategico simulativo immagino che cazzo sto guardando certo che però metterli in fila i nemici uno dietro simulator è carino ragazzi questo ci sta lascerò la musica di sfondo perché è eccezionale grazie just big big kid grazie mille subito the horror what in within game scopriamolo insieme aspetta trailer va perché qua sennò trovi il gameplay e mi brucio tutto teaser trailer no questo è the evil within the horror within non 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 vi è sicuro che non è the evil within yale che mi hai chiesto la reaction the horror within provo a cercarlo su steam perché sennò mi da evil within che cazzo è sta roba sicuro non è the evil within the horror within non lo trovo ragazzi come la mettiamo sicuro è within sì sì within within non lo trovo is this la fine non c'è non vi è non non esiste non 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 c'è horror tales the wine horror sto cercando su come cazzo si chiama su steam poi non so se no non c'è ragazzi come facciamo ma ora che si fa quello che stiamo facendo incredibile 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 comunque grazie caro grazie anche yale non so mi dispiace ma non lo trovo non vado ad aprire instagram adesso per la celtica non lo farò non lo farò non saprei amen e non ma dov'è che sta dove l'hai visto perché su youtube non lo trovo mi sembra strano perché c'è un the horror within però ho soltanto gameplay qua un gameplay di 11 minuti vediamo è per caso questo guardate questo baldo giovane va che ciuffo è lui è questo aspetta che tolgo il volume la voce mi distrae non riesco a fare due cose insieme è possibile che sia questo si è questo e che cazzo è classicissimo horror mi sembra per adesso sviluppato da ben meno uno sviluppatore turn ma non voglio bruciarmelo però francamente non voglio bruciarlo io non voglio vedere i gameplay perché i gameplay mi spoilerano un po' troppo ah c'era un mostro che mostro era fa vedere se è abbastanza inquietante dai per favore qual è l'inquilino non se ne è anche visto non riuscirò non ho voglia basta dopo gli do un occhio ragazzi cerco di capire intanto da dove mica c'è cacciato fuori sto gioco in quale piattaforma si può reperire poi a quel punto mi riguardo il trailer e vedo che fare ma tanto è pieno di sti titoli ragazzi è pieno di sti titoli non vi affidate solo a tiktok lasciate fare a me qualcosa trovo qualcosa trovo qualcosa troverò poi smushy come home smushy come home smushy come home ma è adorabile ecco questi sono quei titoli che fan venire il prurito ai denti è un topolino con il cappello di un di un di un è un fungo è un fungo some game by onion però è bello lo stile mi piace stiamo pilotando un castoro vibes di zelda tantissimo forse questo è il motivo ti spiegano come si sono persi i semi curugù su zella quegli stronzi là che poi quelli che getti giù dalle 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 isole di hirule nel cielo brutti nel fuoco che carino è vero è vero è vero è una lumaca con le zampe cristo mi voglio rispargerla con un po' di sale allora a parte io che faccio il coglione potrebbe essere un gioco interessante perché c'ha quel concetto adventure playstation 2 che male non fa però però state valutando non state valutando qualcosa sono dotato di un pene non riesco cioè mi piacciono i giochi pucciosi ma fino a una certa qui mi sa che andiamo un po' troppo oltre alla linea del consentito non saprei però però non è che l'acqua poi se lo porta via nome giochino smooshy come home smooshy non è male dai no non è male non è male veramente ci sta tanto tanto cute sì sì me lo compro su switch va bene Andrea quando lo fai dimmelo che ti citofono e ti strisso le guanciotte Happy Square è un gioco horror molto bello lo conosco non so cosa sia successo perdonatemi fatemi chiudere qua lo metto nella lista desideri dai l'ho messo nella lista desideri le testimonianze guardate guardate l'ho messo nella lista desideri guarda guarda l'ho aggiunto l'ho aggiunto l'ho aggiunto l'ho aggiunto perché non si sa mai non si sa mai potrebbe essere qualcosa di carino interessante da portare così quando non abbiamo un cazzo da fare cista cista ma ci sono altre reaction che mi avete chiesto sì a classico horror story film ma questo lo conosco trailer in italiano dai in italiano è di due anni fa ed è di Netflix pentiamoci qualcuno difende ancora nello doppiato in inglese sì perché così sfatiamo il mito che il doppiaggio in italiano è eccezionale trailer ma andate a lavorare come ti permetti lo voglio vedere in inglese in mezzo ai ghiacci non credo direi che avrà seguito una strada sto camp aspetta ma come cazzo ci sei entrato in una foresta con un camper ci sarà un parcheggio e poi sarei andato a piedi immagino sei letteralmente entrato nella foresta col camper non capisco questo che vuol dire che vuol dire che non è una foresta è come dire ho preso la macchina per andare al centro commerciale e poi ti ritrovi letteralmente in macchina dentro al centro commerciale capite dove sta il problema cioè uno in macchina ha sfondato l'entrata ed è entrato dentro la hall del centro commerciale cioè non è più figurativo faccio campeggio nel bosco sì ho capito però non è che vai letteralmente con camper nel bosco ti fermo probabilmente lo vedrò lo che cazzo no questo non posso farlo vedere dio santo è partita la musichetta di del giochino di prima sushi scusci come vabbè Midsommar l'avete visto Midsommar sì che l'avete visto ma sì che l'avete visto vi è piaciuto? ma Aoni è sempre più ma sto Aoni me l'avete chiesto 2700 volte e io per 2771 volte vi ho detto non mi interessa Oblivion nella madonna cosa ho visto? lascia stare è indescrivibile viewfinder gioco viewfinder cos'è? ah lo conosco viewfinder sì sì è quello lì dove devi mettere quel puzzle game con le fotografie è carino lo conosco è carino è carino sto giochino qua ti fa capire come siamo andati avanti dal punto di vista tecnico con i videogiochi perché qua tu da un'immagine crei proprio un elemento di gameplay è molto figo molto figo poi tra l'altro c'è anche una bella grafica mi manda a puttana il cervello cioè ve lo dico non so se riuscirei però interessante interessante mi ricordo uno di quei livelli di LittleBigPlanet ma che roba mindfuck mindfuck molto artistico molto bello sto stile da mal di testa come piace a me quello era il 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 gatto di Alice nel paese delle meraviglie il gatto che arride la reflex no la reflex quella fotocamera lì ragazzi la polaroid io la comprai perché volevo fare le foto ovviamente c'è neanche compri una polaroid e la usi come posata compri una polaroid per fare le foto ma non immaginavo che una carica delle polaroid costasse 2 euro a scatto e dentro ci fossero 10 scatti totali quindi se ti fai un viaggio con la polaroid devi portarti circa immagino sicuramente più di 10 scatti no stai facendo una vacanza ma quanto devi spendere per fotografare quindi alla fin fine si va ad utilizzare il telefono le foto non sono il massimo per niente bisogna saperle fare le foto con la polaroid ragazzi cioè bisogna sapere fare quei tipi di fotografie lì è difficile è difficile è molto difficile 600 euro minimo 600 euro minimo di scatti e poi ci siamo e quindi insomma aspetta che metto la musica non c'è più aspetta guardiamo tre Eli Eli non so che cazzo sia di tre anni fa state andando indietro a bestia ragazzi la modernità adesso voglio vedere Lamb quello che mi avete consigliato l'altro giorno Cristo santo no c'è la ficca andrà per tutto stratrice adesso Stranger Things fa cagare ok ragazzo per avere una qualche forma di malattia significativa allergico all'ossigeno e all'acqua quindi ok lo studiano sentite il casino che stanno facendo i cani bene e quindi oh basta cazzo ma dei cani quando giocano capisco che giochino ma che vadano dare testate contro i mobili c'è qualcosa che non va oh no sembra un thriller psicologico più che un horror immagino che quella bambina la veda solo lui spoiler va bene ma vai via ma vai via corri ad osso corri ad osso oddio no scusate ma quindi che è una storia sui bambini cioè schifo lì e e lì posso? posso? la roba netflix non mi ispira ragazzi oh non ci posso fare niente però potrei dargli una chance sicuramente guardo a classic horror story perché mi gusta voglio vedere comunque gli italiani ci sanno fare quindi non è detto non è detto quindi potrebbe essere una cagatina a me non è piaciuto ma questo è di due anni tre anni fa mi dicono sì c'è scritto tre anni fa poi non so quando si è uscito in italia io ripeto i film di netflix ragazzi non li guardo perché la maggior parte cioè ho iniziato a guardarli ma la maggior parte delle volte mi hanno deluso quindi poi ho smesso francamente nonostante pago l'abbonamento più che altro su netflix guardo le serie tv o i vecchi film però le cose non no quindi le robe del genere le robe del genere non mi non mi fanno impazzire Sekiro c'è questa domenica? sì perché qualcuno ha chiesto di Sekiro sì stasera questa domenica ragazzi maestro porta Sekiro attenzione la prima di Sekiro l'ho visto ad Halloween perché? lasciano desiderare e più che altro è quello non vale quasi mai la pena e perché sono gratis o meglio integrati nell'abbonamento che li guardi vabbè bestiacce dai chiudiamola qui facciamo una roba domani alle 21.30 siateci perché c'è Red Dead Redemption si ritorna con la la redenzione di Dino la 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 Red Dino Redemption e il nostro Arthur Morgan quindi siateci che si va nel Selvaggio West sperando di riuscire a fare una principale o una secondaria anziché incappare nella legge che ha un po' rotto i coglioni direi fatti bravi fate i buoni io spero vi siate divertiti con questa serata Itcio che io reputo sempre più intrattenente allora meno giochini interessanti stasera lo ammetto lo ammetto però però più lunghi o sbaglio un po' anche intrattenenti un po' intrattenenti un po' anche intrattenenti non non lo so conosci Dragon Ball no cos'è e quindi è andata è andata diversamente questa è la terza serata di Itcio se non sbaglio della serata playing browser e sta andando alla grande sta andando alla grande mi sta piacendo prossima volta però proverò a fare questo ve lo dico già seleziono io cinque giochi guardo un pochino i trailer e e poi li portiamo in live quelli che riusciamo a portare in un'oretta e mezza va bene al massimo vi faccio vedere i trailer di tutti e cinque poi scegliete voi quale giocare per primo almeno non stiamo perché anche la scelta un po' il problema è la perdita di tempo della scelta perché se ci metto dieci minuti per scegliere un gioco abbiamo tolto dieci minuti un giochino quindi a questo punto guardo prima e poi portiamo magari andate su Telegram che possiamo fare una votazione direttamente lì su Telegram quindi voi sub ricordatevi che c'è Telegram che a parte che lì possiamo chattare 24 ore su 24 ma facciamo lì magari delle votazioni delle robe sui giochi così potete anche avere un pochino più di controllo della serata e ovviamente sì tutto insieme con la chat poi si vota il gioco che si predilige di più va bene mi spiace grazie per tutto fatti bravi fatti buoni spero vi siate divertiti vi ricordo di andare su Instagram di andare su TikTok di andare sui social e così almeno avete sempre tutto a portata di mano YouTube se vi interessa e poi vabbè se ce la facciamo arrivare alla maratona io soffrirò soffrirò abbastanza non saranno 4 ore di Horror Night ma saranno una serata una serata piacevole da passare insieme non per il mio culo ma insomma fatti bravi fatti buoni vi voglio bene questi assi grazie per ogni cosa spero vi siete divertiti grazie veramente per tutto quello che fate per noi davvero ciao grazie a tutti grazie a tutti